Domenica 12 agosto l'Associazione Culturale Giovani Ortonesi, con il patrocinio del Comune di Ortona, organizza la prima edizione del corteo storico in onore dell'illustre personaggio la madama Margarita d'Austria, figlia dell'imperatore Carlo V d'Asburgo. Margarita arrivò ad Ortona nel 1582, acquistando il feudo per 54.000 ducati e si stabilì nella cittadina adriatica facendola rientrare negli stati farnesiani d'Abruzzo. Un tuffo nel passato riporta Ortona alla fine del 1500, con spettacoli medievali di sbandieratori, musici e combattenti delle varie associazioni storiche invitate per l'occasione. Oltre al corteo storico, che partirà da Largo Castello Aragonese alle ore 21.30, presso Palazzo Farnese alle ore 22, ci sarà la rievocazione dell'acquisto della città di Ortona e della posa della prima pietra per la costruzione del palazzo da parte di Margarita d'Austria.